Siamo in arrivo a Rimini, i viaggiatori troveranno il treno, frecciabianca 88 06 7 per Lecce, delle ore 12 e 36 intercity 6 07 per Pari Centrale, delle ore 13 e 10 regionale 65 10 per Ravenna, delle ore 13 e 18 Fricciabianca 88 07 2 Legge, delle ore 12 e 36 intercity 6 07 2 Pari Centrale, delle ore 13 e 10 regionale 65 10 per Ravenna, delle ore 13 e 18 minuti Siamo in fondo, delle ore 13 e 19 italiane, delle ore 13 regionale, delle ore 13 e 19 autistic 005 18 in fondo, delle ore 13 e 18 alti Siamo in fondo, delle ore 13 e 15 minuti, delle ore 13 e 15 metri, delle ore 13 e 15 metri, delle ore 13 e 13 e 15 Grazie a tutti.